Eh sì, non è facile, dopo Cesare Caccitti che con quella naturalezza e semplicità ha parlato a tutti, ha spiegato a tutti alcuni concetti che volevo affrontare anch'io, quindi non è facile ripassare dove è già passato lui. Comunque il nostro intento è quello non tanto di parlare della nostra macchina, quanto di accennare ad alcuni elementi riferiti alla stampa 3D. Cesare sono ormai otto anni che si occupa di stampa 3D, quale uso? Grazie. Io è solo un anno e mezzo che mi sono avvicinato, però sicuramente è molto da imparare da lui. Entro nel merito della nostra presentazione, ho pensato di mettere questa slide solo per dare un'indicazione di volumi che in questo momento ci si immaginano sul mercato mondiale, circa 100.000 macchine stampanti vendute nel mondo con una previsione di circa 220.000 per il 2015 e una previsione del 2018 direi molto importante perché parliamo di 2.300.000 stampanti indicativamente. Quindi un'esplosione di questa tecnologia e le applicazioni ormai ce le ha svelate Cesare. Io cercherò di non aggiungere qualcosa ma quantomeno metterci qualcosa di nostro. La stampa 3D è un brevetto, almeno queste due tipologie che sono FDM, è una innovazione brevettata negli anni 80 negli Stati Uniti. È rimasta un brevetto controllato da una società che ancora oggi è sul mercato ed è fra le prime al mondo e dopo 25 anni è diventata una tecnologia utilizzabile. La utilizziamo ormai in tanti, noi come Bluetech siamo forse gli ultimi arrivati in termini di tempo perché è un anno e mezzo che ci dedichiamo alla realizzazione di questa macchina ma non siamo gli ultimi. Abbiamo la capacità e il controllo dei piani perché arriviamo da una storia di automotive dove abbiamo prodotto per vent'anni i tettucci apribili per le automobili. Quindi tornando alla stampa 3D, questa tecnologia FDM viene brevettata da questo professore americano e dopo 30 anni oggi abbiamo anche altre tecnologie che nel frattempo si sono sviluppate. La prima, quella che utilizziamo noi, è la FDM e poi abbiamo altre tecnologie più evolute di cui ci ha parlato anche Cesare. L'ultima nata, nello scorso autunno, è la Multijet Fusion. È un mix di più tecnologie. Rapidamente, come avviene la trasformazione da un filamento che voi vedete in queste macchine che può essere di 3 mm o di 1,75 mm, avviene tramite il trascinamento di questo filo che esce dalla bobina e si infila in questo tubicino bianco che vedete qua sotto, dove si infila il filo rosso trascinato da questi motori, il filo rosso si introduce all'interno di un corpo riscaldante e con una temperatura variabile per il materiale che abbiamo utilizzato tra i 170 e i 190 gradi, viene depositato dove il software di gestione gli ha detto di metterlo. e il risultato che ne ricaviamo, se abbiamo fatto il nostro dovere, potremmo vederlo rapidamente. Poi le due macchine sono in grado di farvi vedere dal vivo il funzionamento. Qui stiamo realizzando tre arcate dentali per uno studio d'onto tecnico che ha sostituito delle macchine americane che lavoravano con una tecnologia più evoluta con due delle nostre macchine e ogni arcata dentale che riesce a realizzare con la nostra macchina gli consente di apportare un risparmio di uno a cinque, dove prima spendeva cinque adesso spende uno. Direi che lo possiamo far girare, ma farei girare sia quello che questo. Per chi si occupa di argomenti come questo, da qui può ricavare qualche informazione anche in termini di precisione e di realizzazione. Quindi un'applicazione che i dentisti hanno, almeno gli odontotecnici, non gli dentisti scusate, stanno utilizzando con un grande vantaggio economico mantenendo la qualità che avevano prima. I materiali che possono essere utilizzati nella nostra stampante, ma direi in tutte le stampanti con questa tecnologia, vanno dal PLA che noi privilegiamo per una serie di motivi. Primo fra tutti che essendo un derivato del mais e della canna da zucchero non emette quei fumi nocivi che possono essere emessi dall'ABS, nylon, PET o altri materiali che sono derivati dal petrolio. Quindi i due formati ne abbiamo detto. E proseguiamo. Questa è una cosa carina. Prima parlavamo di teletrasporto. Io ho preparato alcune cose. È un po' la borsa del prestigiatore. Quell'oggetto che ha in mano quell'astronauta è questo oggetto qua, che la NASA ha messo a disposizione, questo file a gennaio, l'abbiamo scaricato e ce lo siamo riprodotto. E il primo oggetto, questo l'abbiamo fatto noi in casa, ma questo è il primo oggetto che è stato stampato nello spazio. Poi ho giocato con le immagini e ho cercato di riprodurre anche la fotografia. Non è la stessa cosa. Si parte da un file di modellazione in 3D che viene esportato con l'estensione STL e con il quale si possono lavorare e realizzare degli oggetti che sono i più disparati. Un piccolo tornado, un bicchiere. Si possono riprodurre oggetti anche d'arte stando attenti a rispettare le regole della riproduzione degli oggetti d'arte. Si possono realizzare oggetti di design molto interessanti con una qualità alta. Se volete farlo girare, si possono realizzare oggetti che possono aiutarci nel completamento dell'arredo della nostra casa come quel piccolo vaso o quel piccolo oggetto. Questi file in STL vengono importati poi in un software open source che noi utilizziamo e cura ma ce ne sono altri. Questi file in formato STL vengono trasformati in un secondo file che ha un'estensione G-code dove ci serve questa operazione per dare i parametri di stampa alla stampante cioè la velocità di stampa, la temperatura ed altri settaggi. Abbiamo riprodotto quell'oggetto in sua destra con scritto Torino e la riproduzione della fontanella che c'è in giro per la città Torino. Da una parte c'è scritto Torino e dall'altra c'è il toro che distribuisce l'acqua potabile. È stato trasformato in un portachiavi e il nostro distributore torinese offre questi oggetti alla sua clientela. Ma parlando di artigiani e artigiani digitali due cose da dire. sicuramente ringraziare chi ci sta ospitando e quindi l'ha confartigianato e pensando a loro ci sono alcuni oggetti che secondo me devono essere portati in evidenza e sottolineati. Si riescono a realizzare degli oggetti come questo che vedete a destra bianco. Queste sono sei ruote dentate che hanno un incastro con delle code di rondine e se fate girare le rotelle vedrete che girano, funzionano ma non è stato assemblato dopo perché non è possibile assemblare dopo delle ruote che hanno dei denti a coda di rondine. Questo è solo per dimostrare che si possono realizzare delle cose veramente particolari dove il software ci consente di gestire sia i pieni che i vuoti nella misura opportuna che ci serve. Un'altra cosa carina che ha fatto vedere prima anche Cesare Cacitti è la possibilità di riprodurre delle fotografie anche quindi dei file JPEG che vengono stampati su una superficie di circa un millimetro e mezzo due millimetri che a prima vista sembrano nulli ma poi quando si riesce a portare a metterli dietro della luce ci dà immediatamente l'immagine di quello che si è stampato. Io adesso mi allargo un attimo facendovi vedere una cosa molto personale mi sono lanciato per la prima volta nella mia vita con il paracadute e mi hanno immaginato e me lo sono riprodotto e si vede proprio l'immagine che c'era là in alto quindi si possono riprodurre ad esempio alle mie figlie a Natale ho regalato una fotografia dove ci sono loro tre insieme e a tutte e tre lo stesso oggetto sicuramente unico credo che sia stato il primo oggetto 3D che hanno ricevuto quindi molto flessibile nell'utilizzo e quali sono i campi di applicazione però concretamente al di là dall'aspetto del gadget il primo che vediamo noi è quello della prototipazione rapida cioè realizzare rapidamente e quindi l'attività dell'artigiano ma non solo realizzare rapidamente dei prototipi degli oggetti che servono ad andare poi in produzione oggi realizzare un impianto pilota per creare un oggetto di qualsiasi tipo forse anche un bicchiere che vi invito a guardare con quale precisione viene realizzato un'azienda deve spendere settimane di lavoro dando a terzi il compito se non lo fanno loro in casa e spendere non centinaia ma forse mille o più euro per realizzare un campione o due o tre con queste modalità abbiamo una velocità di realizzazione di un campione quel bicchiere è stato stampato in circa tre ore questo tornado che è un aspetto estetico ma potrebbe essere qualsiasi oggetto un oggetto anche meccanico si passa dall'ora alle due ore alle tre ore alle sei ore anche alle dodici ore ma in una notte io poi al mattino mi trovo un oggetto pronto e il mio ufficio marketing insieme all'ufficio tecnico insieme a tutte le persone che sono implicate poi alla realizzazione al design del prodotto sono in grado di decidere subito cosa fare quindi tempi estremamente ridotti costi altrettanto ridotte si possono realizzare delle piccole produzioni piccole produzioni sta a dire qualche pezzo o qualche decina di pezzi se ciò che realizzo non ha la necessità di avere una finitura estetica estremamente fine perché se desidero avere una parete completamente liscia allora bisogna andare su altri tipi di stampanti la definizione che noi abbiamo su questa stampante può arrivare a un decimo quindi parliamo di 100 micron utilizzando un ugello di una certa dimensione che è 4 decimi ma se dimezziamo la dimensione dell'ugello e passiamo a 2 decimi andiamo a gestire i 75 micron quindi si arriva ad una precisione abbastanza elevata quindi parliamo di piccole produzioni e della trasformazione immediata di idee che un designer potrebbe avere e anziché passare giorni o settimane ad aspettare che qualcuno glielo realizzi avendo già elaborato il file in 3D lo stampa magari non della dimensione che gli serve perché lo riduce perché le stampanti hanno delle dimensioni oltre le quali non si riesce ad andare oppure stampanti più grandi ma magari ci sono degli oggetti che sono troppo grandi quindi si possono riprodurre anche oggetti rotti l'abbiamo visto anche precedentemente uno dei relatori ha fatto vedere un pezzo di una macchina nissan di un tergicristallo il cliente se l'ha riprodotto anziché andare a comprarlo e poi ci sono tanti punti di sospensione perché non c'è un limite di applicazione secondo noi questo è molto interessante nell'edilizia un architetto un geometra può oltre che realizzare il disegno magari anche in 3D al suo cliente gli può portare la casa e fargliela toccare e fargli vedere all'interno come sono le stanze e se ha disegnato la casa con dentro su pellettili con i letti con tutto quello che c'è bisogno gli fa vedere anche già come è sistemata e se invece le parti all'interno le stampa a parte lo fa giocare il suo cliente e lo coinvolge nella costruzione poi di tutta la casa dell'arredamento e della sistemazione di tutte le su pellettili questo pensando a professionisti quindi quali settori industria artigianato dicevamo professioni arte sport ma in questo momento noi stiamo facendo due lavori molto significativi sui quali vorrei andare a farvi vedere sono due brevi filmati ma che vi danno alcune informazioni per quanto riguarda le ricostruzioni tridimensionali con osiris e tutto il resto io ti metto in contatto e ti do la possibilità di stampare 3D nell'altra azienda e così è nato questo rapporto tra noi due penso che Nicola sia stato uno dei primi in Italia stampare un calcagno fratturato che ha in mano peraltro e da lì è nato un po' tutto l'amore per la stampa tridimensionale qualcosa che già covavo dentro ma dovevo trovare il pretesto per poter mettere in pratica le idee e questo pretesto appunto è giunto da Nicola è giunto da un'azienda che è la Bitecca che ci ha fornito la stampante e noi come ospedale Maggiore di Rodin siamo forse fra i primi a produrre in serie delle stampe 3D ecco questo è il dottor Poggi primario dell'ospedale di Lodi e noi grazie ad alcuni test che abbiamo fatto insieme a loro ci abbiamo messo tre mesi però siamo riusciti ad arrivare ad avere dei risultati molto interessanti partendo dalla TAC andiamo a riprodurre facendo dei passaggi su alcuni software andiamo a riprodurre le ossa fratturate ma le riproduciamo con una precisione che è intorno al decimo di millimetro quindi siamo riusciti prima di fare queste operazioni a testare che ciò che noi riproduciamo è esattamente ciò che la TAC ha realizzato e ha trovato all'interno del corpo umano abbiamo usato degli oggetti che avevano delle misure certificate abbiamo poi fatto delle verifiche dei controlli incrociati doppi noi e l'ospedale e il risultato è questo il prossimo percorso sarà quello di certificare le macchine affinché si possa utilizzare nel campo medico questa tecnologia e oggi in giro per il mondo sono in pochi che riproducono le ossa con queste precisioni sono stati fatti alcuni tentativi da alcuni medici finlandesi e danesi ma con una precisione come questa ad oggi non abbiamo ancora notizia probabilmente a marzo saremo presenti o meglio il dottor Poggi sarà presente con una relazione che parla proprio di questo evento nell'ambito di un convegno che parla di ortopedia e quindi stiamo andando verso la strada della riproduzione delle ossa oltre che per avere la possibilità di dare al al medico la possibilità di vedere prima la frattura che c'è prima di aprire il paziente è in grado di vedere esattamente le dimensioni degli apparati che dovrà installare sull'osso per la riduzione della frattura quindi si ridurranno i tempi delle operazioni e poi si potrà anche avere un consenso più informato del paziente perché poter vedere e toccare con mano e toccare con mano la nostra frattura ci farà comprendere meglio quanto è la gravità del problema che noi abbiamo quindi prima vi ho fatto vedere il dottor Poggi che diceva alcune cose adesso vorrei farvi vedere la realizzazione di questa riproduzione che è sempre un piatto tibiale ha caratteristiche di precisione inferiore è stato uno dei primi test ma dà l'idea della realizzazione ecco quello che vi ho fatto vedere in pochi secondi sono sei ore di lavoro però lanciato alla sera al mattino mi trovo l'osso pronto grazie un altro lavoro importante che stiamo sviluppando di cui vi ho accennato prima è quello delle arcate dentali che ho fatto circolare e che ci ha consentito di arrivare a realizzare fino a sei arcate per stampa questa è la nostra stampante di cui siamo molto orgogliosi l'interno della macchina lo chassis è tutto in acciaio è una macchina totalmente progettata e costruita in Italia tutto sia la parte meccanica che la parte elettronica e l'unico oggetto che è fatto in Cina è il motorino che per una serie di ragioni di costi non siamo riusciti ad acquistare in Italia oltre all'hardware abbiamo anche la scheda che è di nostra proprietà non è una scheda che va a 8 bit ma è disegnata da noi e funziona a 32 bit un coprocessore matematico Texas e il firmware è controllato da noi quindi c'è un continuo upgrade della macchina alcune caratteristiche tecniche come dicevamo l'estrusione avviene dai 180 e 280 gradi parliamo della dimensione che è circa 280 per 170 per 170 ma direi altre cose significative che si possono sottolineare è che non va a 220 volt ma tramite un trasformatore va a 24 volt quindi estremamente sicura e il consumo massimo è fra i 40 e i 50 watt al massimo del picco e quindi consuma meno di una fotocopiatrice e la marcatura CE non è da dimenticare questo è il nostro percorso quindi come vi dicevo prima è un anno e mezzo che l'azienda è su questo progetto la prima macchina l'abbiamo vista un anno fa poi ci sono state delle evoluzioni oggi aspettiamo di arrivare a marzo alla fiera che ci sarà a Milano per presentare una macchina nuova con dimensioni più ampie e anche con alcune innovazioni tecnologiche che probabilmente saranno oggetto anche di brevetti in più durante l'anno abbiamo in programma un'uscita con lo scanner a luce strutturata uno scanner 3D a luce strutturata direi che detto questo ho solo la volontà di ringraziare il nostro collaboratore Andrea Morgan che è stato da ieri qui con noi insieme anche ai giovani che hanno passato la nottata a lavorare come ho detto la compartigianato e con questo direi che avremo concluso e ringraziamo tutti quanti dell'attenzione grazie mille grazie alle passano